Professore, Novavax si è rivelato un po' un flop? Si è rivelato un flop perché purtroppo ci si aspettava di più dalla gente che sembrava volesse farsi vaccinare con questo vaccino più convenzionale, perché molti della galassia Novavax, io li ho sentiti spesso, avevano proprio paura del vaccino, quindi non erano Novavax convinti, senso stricto diciamo così, era gente che aveva paura e molte persone mi chiedevano nei mesi appunto notizie sull'avvento di Novavax sul mercato europeo italiano perché intenzionate a vaccinarsi con Novavax. Invece in realtà evidentemente il numero dei soggetti che avevano paura dell'MRNA e quindi intenzionati a farsi questo vaccino convenzionale Novavax, evidentemente il numero era un numero esiguo e quindi stiamo osservando effettivamente uno scarso numero di soggetti che si va a vaccinare con Novavax. Peccato, francamente pensavo che fossero di più i soggetti tra virgolette spaventati ingiustamente peraltro dal vaccino mRNA, e quindi noi osserviamo questa situazione, peraltro Novavax è un vaccino abbastanza convenzionale, un vaccino sicuro, così come è sicuro quello mRNA, ma la cattiva informazione purtroppo, soprattutto una cattiva informazione che non nasce dai media fortunatamente, ma da informazioni alternative tramite la rete o tramite altri canali, purtroppo ha generato questa situazione, che è una situazione comunque che ci potrebbe far preoccupare in questo particolare momento, perché fa molto freddo, tant'è che stiamo vedendo un lieve rialzo di casi, ma è facilmente giustificabile e spiegabile appunto perché fa freddo, è il momento più freddo dell'anno qui da noi, perlomeno a Pescara, comunque nella zona rivierasca dell'Abruzzo, erano parecchi mesi che non faceva così freddo, ed è ovvio che ovviamente questi virus da raffreddamento come SARS-CoV-2 ci sguazzano col freddo, quindi probabilmente adesso avremo un maggior numero di casi, magari per qualche settimana. Questa situazione cosa comporterà? Sicuramente qualche ricovero in più e qualche purtroppo paziente che andrà a finire in rianimazione. Chi è che va a finire in rianimazione? Chi non si è vaccinato, al 90%, oppure dei poveri sfortunati, vecchietti, oltreottantenni con delle comorbidità. Però voglio dire, io mi sono stufato a fare gli appelli a chi si deve vaccinare ancora, mettetevi una mano pure sulla coscienza, perché tra l'altro ho visto all'inizio dell'anno sono morte delle persone molto giovani non vaccinate, quindi il problema è vostro, in primis della vostra famiglia, ma anche della società in cui viviamo, quindi non è giusto, anche perché parlo probabilmente di 5 milioni o più di italiani che non hanno fatto nemmeno una dose, quindi non è un numero esiguo. Questa situazione ce la riporteremo nel prossimo autunno inoltrato, perché Omicron magari non ci sarà più, ci sarà una variante, magari meno patogena di Omicron, ma pur sempre patogena, che soprattutto nei gruppi, nei setting dei non vaccinati, farà sicuramente danno. Professore, prima tutti i virologi, ora tutti i statisti. Dalla pandemia alla guerra in Ucraina arrivano i profughi anche in Abruzzo, noi siamo stati dove tra l'altro voi effettuate i tamponi. Cosa si rischia con l'arrivo di questi profughi, visto che in Ucraina circa il 30-35% è la percentuale dei vaccinati? Purtroppo si rischia di importare dei mutanti, più che varianti, diversi da quelli nostri, che potrebbero magari anche generare delle epidemie, microepidemie. Effettivamente la percentuale dei soggetti non vaccinati in Ucraina è molto elevata. Sembra anche, non tanto per la non disponibilità dei vaccini, quanto proprio per il fatto che la maggior parte degli ucraini sia proprio, diciamo così, no vax. Io spero che possano essere vaccinati, anche se suppongo che non li si possa obbligare. Mi dispiace per loro, per questa triste situazione che stanno vivendo, ma veramente mi dispiace come cittadino del mondo e come cittadino europeo. Però, insomma, anche loro, forse, pure loro potrebbero mettersi una mano sulla coscienza e dire, va, questi italiani ci stanno accogliendo, italiani o altri ci stanno accogliendo, forse dovremmo fare qualcosa in più per loro. Ecco, un appello rivolto, diciamo, alla comunità ucraina pescarese che faccia da tramite a questi sventurati loro concittadini, che probabilmente non sanno l'italiano, in modo tale che una mano lava l'altra, voglio dire, cerchiamo veramente di aiutarci tutti quanti, insomma, perché poi il rischio di generare, teoricamente ovviamente, delle microepidemie anche locali c'è.